buonasera amici di nova news 24 se il natale è bello perché si dicevano dei regali al grande fratello vip tutto viene stravolto l'enigmatico dono fatto dal fratello di edoardo donna maria mette in crisi proprio la fidanzata antonella nella casa del grande fratello vip è tempo di regali i viponi dopo aver festeggiato la vigilia hanno ricevuto alcune zone da parte dei loro familiari come di consuetudine fra le offerie e l'allegria generale però c'è stato un concorrente che è rimasto un po perplesso una volta scartato il suo pacchetto stiamo parlando quindi di edoardo che infatti ha ricevuto una sorta di bambola voodoo dalla moglie del fratello con il cuore rotto e la parola ex oltre a un binocolo probabilmente per osservarlo meglio il volto di forum è rimasto un po perplesso mentre la fior delisi lo incalzava con domande circa il reale significato dei regali e proprio antonella sempre esserci rimasta molto male inutile che lo continui a ripetere ci sto pensando non lo so se tu continui a dire ex ex l'unica cosa che c'è scritto ex non lo so non ne ho idea vabbè ci penserò dopo magari c'è un altro indigio scusa se ti rispondo male ma mi rovini un momento bello non sappiamo cosa vuol dire antonella ti posso chiedere un favore sei inopportuna non so come dirtelo così risponde edoardo ad antonella che a quel punto sia se ne va l'influencer ha esternato i suoi dubbi sfogandosi poi con edoardo luca mentre proprio cominciava a diventare sempre più impaziente circa l'atteggiamento proprio di antonella edoardo sembra quindi molto colpito per quello che è successo è palese cosa vuol dire sono comunque dei messaggi non carini per la coppia c'è scritto ex con la lente poi c'è un binocolo con un cuore qualcuno dall'esterno perché sono dei messaggi strani perché non sono chiari anche tu sei rimasto stranito di centonella è una cosa triste se lo mandano c'è un motivo non è che lo mandano così ovviamente riferito all'amore quindi centro anche io c'è sempre un doppio senso ci sta che uno in dana su questi regali che non ha ricevuto prima e li diceva adesso perché mi tratti male non ti sto facendo niente ovviamente tutti e due hanno avuto un parapiglia dopo quello che ha ricevuto edoardo questo regalo quindi ovviamente un messaggio subliminare mandato dal mondo esterno ad edoardo questa sorta di bambola youtube con una lente di ingrandimento può far pensare tante cose amici di nuova news 24 vogliamo svegliare la vostra fantasia diteci secondo voi che cosa volevano dire i familiari di donna maria con questo regalo intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24 diciamo www.dott.com